salve a tutti sono mattia per le amiche più intime matioschi e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a una nuova puntata del matioschi show e siamo qui anche quest'oggi per parlare delle ultime notizie dal mondo del cinema e delle serie tv lo facciamo in compagnia di scream distroncando l'orrore salve 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 a tutti anche oggi sono da solo e mi sto preoccupando perché ultimamente in queste prove letali del matioschi show non ci sono vincitori è solo vinti sono vinti dovete impegnarvi sotto c'è spazio per tutti nel mese di aprile la pasqua di resurrezione saremo pieni di cioccolato e allora fatevi forti e venite e non pensate troppo a che collegamento ci sia tra le due cose non pensateci nessuno ma sì ma sì benvenuti a tutti ci aspetta una puntata ricca e intensa sappiatelo piena di sfaccettature siete pronti io no ho intraletto i titoli e a bene quindi andiamo già iniziamo subito questa una notizia che ieri ci ha comunicato devollo una volta tanto puntuale e lo stavamo già stavamo facendo per pecco la manina e invece bravo guarda che premio diventa un argomento principale pirati dei caraibi una saga che ha trionfato al box office per tanto e tanto tempo ma che è arrivata al quinto capitolo cominciava a tentennare si aspettavano grandi cose non è che fosse stato un flop però il riscontro era in forte diminuzione mi permetterei di dire anche sul fronte qualitativo perché la vendetta di salazar c'è chi l'ha apprezzato ma per la maggior parte io credo che i limiti siano evidenti mi pare di aver letto quattro miliardi e mezzo box office worldwide è probabile quindi oggi faremo tanti conti bravo scream che già preparato ottimo da quel momento è successo un certo inghippo tra johnny dep e quell'altra mi ricordo il nome una roba di poco conto ecco non ne hanno parlato in molti e quindi le probabilità già prima scarse di andare avanti si sono quasi chiuse del tutto fate conto che la questione pirati dei caraibi per quanto paradossale possa sembrare faceva parte proprio dell'arringa in tribunale perché ad un certo punto gli avvocati di dep sostenevano che l'attore avesse perso la possibilità di realizzare un sesto capitolo per colpa della cattiva pubblicità generata dallo scandalo con amber heard e invece dep ad un certo punto sotto giuramento ha affermato che in ogni caso non l'avrebbe mai fatto quindi si trattava di un'accusa senza fondamento eppure soprattutto negli ultimi mesi o nelle ultime settimane si rincorre questa voce lo fanno tornare jack sparrow torna e comunque di solito il web risponde bene jerry brukeimer il produttore storico della saga in teoria avrebbe zittito tutti perché in un'intervista stava parlando in generale di tutti i film sotto la sua ala produttiva dice che se per quanto riguarda top gun stanno aspettando che tom cruise si liberi dagli impegni con il il prossimo pirati dei caraibi il tutto dovrebbe essere più snello e più facile perché si tratterà di un reboot e quindi non devono aspettare la disponibilità di certi attori particolarmente conosciuti e famosi già legati in precedenza al brand capirete già che non si tratta proprio di un annuncio davanti ai microfoni di tutte le testate del mondo ragazzi lo facciamo un reboot è un dato che emerge nel corso di una conversazione più generica ma tarpa un po le ali alle speranze di ritorno di dep perché fa proprio il confronto e la distinzione tra il caso top gun dove c'è una star conosciuta e senza la quale il filone non può proseguire che cruis e pirati dei caraibi che invece è un po più facile non c'è nessuno da da riportare quindi la volontà produttiva mi sembra chiara e possiamo parlarne è giusto e sbagliato però aggiungo un altro elemento io non sono proprio convinto della fattibilità di pirati dei caraibi sei lo chiamiamo sei in generale se fosse un reboot probabilmente dovremmo andare alla numerazione singola mi sembra molto difficile perché l'ultimo film si è visto nell'ormai lontano 2017 se non sbaglio quindi di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e da quel momento hanno sempre cercato varie strade si sono succedute voci ad un certo punto si parlava di un rilancio con margot robbie poi si parlava invece di karen gillan quindi una sorta di rinfrescata al femminile poi serie su disney plus tante vie che non hanno mai trovato compimento e brucaimer ne parla da molto di sto cavolo di nuovo pirati dei caraibi ma non si è ancora visto nulla quindi forse non è così facile come lo fa passare mai dire mai magari se l'intenzione c'è riusciranno a produrlo mi domando però se il mercato è ancora favorevole se c'è un pubblico pronto ad accoglierlo soprattutto a fronte di quella che pare essere la notizia indicativa johnny depp jack sparrow ce li dimentichiamo o almeno ci dimentichiamo di questa incarnazione trattandosi di reboot magari ci sarà sparro interpretato da timothy shalamet no perché vabbè che poi in realtà il personaggio di jack sparrow se ci pensi non è così difficile da non è così difficile da fare un ricasting per il personaggio di jack sparrow lo so che lo colleghiamo ad app però e lo ha praticamente delineato e definito in una maniera molto particolare è vero è suo però io anche soltanto a girare per le fiere vedo dei cosplay incredibilmente non solo somiglianti a livello estetico ma anche a livello comportamentale e penso che un attore con i lineamenti giusti una volta che entrano un attimo potrebbe tranquillamente sostituirlo cioè adesso io non è che lo voglio però intendo dire non è se non c'è dep non c'è sparrow per forza non è che dep c'è il contratto se c'è sparrow ci devo stare io per forza insomma non credo almeno no mi domando se gli spettatori sarebbero favorevoli alla sostituzione già i recasting in genere terrorizzano è vero però e questo un personaggio iconico però spa jack sparrow è ha così tanti dettagli con le trecine la barba il cosa tu davvero basta che becchi l'attore con i lineamenti non te ne accorgi neanche cioè è presente mark diemmer potrebbe fare jack sparrow va bene c'è c'è davvero tanta gente ma non sarebbe johnny dep no ma cercando personalmente se il film fosse bello me ne fregherei ma sto cercando di calarmi nei panni del pubblico più generalista quello che leggiamo sul web quello che nel processo c'aveva gli striscioni forza dep sì capisco in ogni caso allora torniamo quindi un attimino sul tema qua principale sarà un reboot ci crediamo non ci crediamo così secondo me lo dovevano iniziare prima una cosa del genere cioè già dal quarto capitolo dovevano iniziare a pensare se volevano fare cose da capo già da lì è un po tardino magari comunque creare qualcosa si può creare io non vorrei che in realtà dietro le quinte avessero già qualcosa di pronto che prevedesse il ritorno di certi personaggi solo che leggere tra le righe delle dichiarazioni del produttore non hanno voglia né tempo di aspettare che certi attori si liberano dei propri impegni e hanno fatto delle modifiche la bella è meglio per tipo sì 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 facciamo una cosa veloce ma facciamola non vorrei che in realtà questo reboot nascesse da una cosa del genere non si può sapere non escludo questa possibilità se hanno delle idee per rilanciare la saga o per dare nuova vita oserei dire alla saga benvengano sempre l'importanza sta nella scrittura e nei personaggi ora come ora è difficile immaginare di rimpiazzare il l'icona di jack sparrow con qualcun altro che trascina in modo grottesco e divertente un po il film che poi ricordiamo che jack sparrow non è il protagonista dei pirati dei caraibi anche se ne è il simbolo però non è impossibile si può fare cioè vista l'epoca vista l'ambientazione basta che ci metti il classico truffatore da quattro soldi molto bravo eh gli dai qualche carattere se l'attore è bravo e se è scritto bene il suo personaggio credetemi che ci potrebbe stare chiunque l'importante è che lo sostituiscono cioè sostituiscono quel buco ecco non non posso essere né ottimista né pessimista voglio sperare che buttino fuori qualcosa veramente di eh dignitoso che ne giustifichi il ne giustifichi la ripartenza ecco io sono un po scettico a prescindere o meno da johnny depp iniziamo dalla dalla prima ipotesi che vorrebbero in tanti lui ritorna ma sarebbe una buona notizia forse ve lo siete dimenticati soprattutto nel quinto film era bollito bollitissimo ma non solo depp che doveva interpretarlo e secondo me era palesemente svogliato e a giudicare delle indiscrezioni ubriaco fradicio davvero ma proprio come scrittura ormai era ridotto a un buffone che non ne azzeccava mezza Jar Jar Binks se riusciva a fare qualcosa era sempre per fortuna sfacciata nel primo film era sempre un personaggio pittoresco e sopra le righe però anche temibile certo poi è andando avanti è diventato la macchietta di se stesso quindi capisco l'affezione all'attore ma in generale io non vorrei rivederlo ma proprio no forse non vorrei vedere neppure un altro pirati dei caraibi ma non per malvagità è una saga cui io voglio molto bene in generale mi piacciono i pirati se poi me li mettete in un contesto fantasy stile monkey island godo ancora di più ma mi sembra che non ci sia più molto da dire il reboot va bene cosa racconti non metto limite alla fantasia degli sceneggiatori certo ma in senso generale dopo cinque avventure io veramente non saprei dove rivolgermi una nuova maledizione ancora che ancora delle bermuda forse fossi loro visto che a ragione scrima all'inizio non era il protagonista jack sparrow ma lo è diventato in corso d'opera forse punterei su una sorta di ciurma la guardiani della galassia dove tutti hanno uno spazio ben o male equivalente quindi non si ragiona sul personaggio singolo ma su un team di scapestrati che vengono caratterizzati e l'unione fa la forza quella potrebbe essere una chiave di lettura ma mi pare che non ci sia più molto spazio sono d'accordo sul fatto che questi personaggi non hanno più tanto da dire però se pensiamo sempre all'ambientazione è facile trovare ispirazione in leggende dell'epoca storie sui pirati è facilissimo cioè basti pensare edward t c'è la storia del pirata barba nera che in realtà il suo impero del terrore è durato un mese però dice la leggenda che marina hanno circondato il suo la sua nave la queen's revenge erano tutti a bordo ubriachi fradici i marinai di barba nera e lui da ubriaco che neanche capiva cosa stava succedendo ne ha fatti fuori 30 prima di essere preso insomma tutte ste leggende no oppure la storia di di harry morgan che è partito cioè che l'hanno rapito da dal vecchio continente ed era in catene a lavorare nei campi di cotone scappato è andato su ma ce ne sono di cose molto belle da raccontare però non con questo non con questi personaggi questi hanno già detto quello che c'era da dire hanno usato la chiave anche del hanno usato anche la hanno giocato la carta dell'olandese volante anche di questi sì sì hanno banera c'era già poi sì però io parlo della sua storia e poi la metti la piccica qualche altro persona un altro sì esatto cioè dico di ispirazione ce ne sono di cose che si possono raccontare e che non mi sembra che le tempistiche siano corrette non è passato abbastanza tempo ma ne è passato fin troppo è un controsenso ma ricordiamoci anche che i pirati al cinema non hanno mai funzionato prima di questa saga perché leggo altre cose fate l'isola del tesoro hanno sempre a livello storico floppato i grandi blockbuster sui pirati tant'è vero che anche questo progetto era visto un po storto e invece è esploso quindi anche per quello che non si sperimenta altrove anche il mio film preferito sui pirati in assoluto che era il pirata di roma polansky con walter matau floppone esagerato sempre dispiaciuto ci ho sempre sofferto perché io adoro quel film permettetemi per voi hook è un film su pirati e un su peter pan dai sì è vero beh ci sono i pirati però è corretto dire che siamo anche nel periodo popolarità di one piece questo è vero sono scettico e posso dire che tra noi creatori con di contenuti italiani ci sono tanti appassionati di pirati se ci pensi ci sono tanti appassionati di pirati noi italiani piacciono i pirati era incentrato su un cino no era incentrato su peter pan che doveva ricordarsi chi era ritrovare la sua fanciullezza rapporto con i figli un cino era il cattivo esatto bello fare una recensione al volo di hook però tant'è e proprio tutt'altro immaginario proprio a livello statistico tra l'altro leggo master in commander ando bene alla critica si 150 milioni di budget 211 di incasso non è che ne l'invento non hanno mai funzionato proprio sì sì c'è l'anomalia pirati dei caraibi perché comunque c'è anche il fattore fantastico e dei personaggi che sono diventati iconici boh io aspetterei non sono convinto poi magari lo annunciano domani può succedere può essere può succedere sì 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 di certo l'intenzione c'è ancora vediamo se è fattibile oppure no salutiamo i pirati e passiamo oh beh a Godzilla e Kong il film arriva domani nelle sale italiane e io andrò a vederlo vi racconto come al solito la mia esperienza con il monsterverse per farvi intendere anche quali sono le mie aspettative il Godzilla di Gareth Edwards non mi è mai piaciuto ho cercato di vederlo diverse volte e per me l'errore principale è stato concentrarsi su personaggi umani senza nulla da dire con Godzilla ogni tanto faceva cucù aspettate sto per fare qualcosa di interessante la telecamera andava via poi credo si siano resi conto anche i produttori dell'errore perché di film in film siamo passati all'ignoranza più totale e lo so che ad alcuni questa cosa infastidisce però io li ho recuperati tutti mentre eravamo chiusi in casa durante la pandemia e mi sono divertito tantissimo dunque mi approccerò a questo Godzilla e Kong come ci si approccia un Fast and Furious voglio un'ignorantata putrida ci sta mi faccia dimenticare le tabelline e che mi diverta per le quasi due ore di durata e mi sembra che potrebbe aspettarmi proprio ciò che voglio a giudicare da queste prime recensioni che come al solito sono i primi pareri brevi sui social scampoli ad esempio su x o threats e noi li leggiamo dunque iniziamo da Michael Lee che ci dice Godzilla e Kong è un rumoroso scontro tra titani con pochissimo cuore a livello umano per intrattenerci a livello emozionale ma il pubblico che vuole vedere solo i combattimenti si troverà davanti a un tag team match fantastico tra Godzilla e Kong contro Scar King e Shimo non so chi sia quest'ultimo ma alla grande quindi si concentreranno poco su legami affettivi tra esseri umani e tanto più sull'ignoranza e sull'azione come è giusto che sia aggiungo io mi sa Aaron Newirth Godzilla e Kong coglie nel segno un sacco di azione selvaggia tra kaiju un cattivo brutale per Kong un Godzilla super potenziato l'attore Dan Stevens che si diverte moltissimo qualche sorpresa inaspettata e tantissimi colori datemi più Monsterverse beh fantastico Ian Sandwell Godzilla e Kong è il film più divertente del Monsterverse fin qui il primo dove sembra che tutti abbiano capito cosa dovevano fare la storia abbastanza leggera ma gli scontri tra titani valgono il prezzo del biglietto spettacolo Andrew Salazar quello della famosa vendetta di Pirati dei Caraibi ci dice Godzilla e Kong spacca il regista Adam Wingard abbraccia pienamente i toni di una rock opera fantasy compresa di colonna sonora con sintetizzatori inquadrature heavy metal come è un inquadrature heavy metal? incredibilmente stupido ma emozionante al contempo è una sincera lettera d'amore all'era Showa perché magari non tutti lo sanno ma i film nipponici di Godzilla si dividono in vari periodi credo che la Showa fosse quella un po' più camp un po' più votata al divertimento senza freni con situazioni bizzarre assurde Godzilla che fa il dropkick queste situazioni è tutto molto bello leggiamo l'ultima tanto l'antifona l'abbiamo capita Beams ci dice Godzilla e Kong è azione senza momenti di stop tra kaiju i fan dei monster movies lo adoreranno sia Godzilla che Kong prendono il centro della scena in quest'ultimo ingresso nel monsterverse Brian Tyreek Henry e Dan Stevens si divertono molto assieme ma questo film appartiene ai mostri giganti ok sì leggo in chat solo recensioni positive beh la prima non era proprio positiva al 100% io credo che potrebbe anche esserci una bocciatura su Rotten perché io vedo che chi è entusiasta è perché l'ha approcciato in un certo modo non so se tutti i critici faranno altrettanto però secondo me queste prime impressioni ci permettono perfettamente di capire una volta tanto cosa ci troveremo davanti sì poi c'è anche da dire che in mezzo a queste opinioni c'è qualcuno che ha dimostrato di sapere di cosa sta parlando cioè di non limitarsi al film cioè chi ha parlato dell'era showa vi discorrendo cioè per la serie no no io so cosa sono i kaiju movies come vorremmo che fossero quindi lasciano molto ben sperare a un certo punto di vista queste prime opinioni e esattamente quello che pensavo anch'io un film più spettacolare che articolato a livello narrativo si fa vedere Godzilla e Kong e ti aspetti una trama complessa il problema sei tu però niente cioè non ho molto ne sono due negative se volete così almeno equilibriamo la bilancia ma che secondo me sono coerenti con tutto quello che abbiamo letto Germaine Lucie scrive Godzilla e Kong è deludente sembra che per il 90% del tempo costruisca una battaglia finale che è sicuramente solida ma non riesce a rispettare le aspettative questo è particolare perché invece tutti gli altri c'è un approccio fresco dato ai personaggi che funzionano ma la storia principale non decolla mai Dan Stevens è ottimo però tanti complimenti a quest'attore li stiamo notando e poi l'altra negativa è questa di tale Riccardo Godzilla e Kong non è efficace come il primo film credo si riferisca a Godzilla vs Kong le scene di combattimento non sono molto eccitanti addirittura quindi andiamo da tutt'altra parte vedete che poi su Rotten ci aspettiamo una percentuale un po' particolare credo la trama degli esseri umani è ancora peggio e per nulla interessante non è un film terribile ma un passo indietro l'atto finale è divertente però da quanto comunque abbiamo capito si dà spazio ai veri protagonisti ai Kaiju eh sì e da quello che avevano detto nel primo opinione che hai letto gli umani sì ci sono ma non sono così onnipresenti anzi sono più botte da orbi tra bestioni che chiacchiere tra tra bipedi normali ecco la penultima che hai letto mi sembrava un parere molto personale di qualcuno che si aspettava un certo tipo di spettacolo ed è rimasto deluso ma è molto personale più che oggettivo e la seconda boh mi sembra ma non lo so non lo so in ogni caso un'idea ce la si può fare un'idea ce la si può fare è un'ignorantata è esattamente quello che vogliamo sì bravo tipico popcorn movie leggo in chat secondo voi bisogna aver visto gli altri film sarebbe il mio primo Kong non so se andare in sala ma vai tranquillo al limite recupera il precedente Godzilla vs Kong perché così assisti alla nascita dell'interazione tra i due ma altrimenti se non ce la fai ma vai tranquillo ti basta sapere che ok si sono affrontati in precedenza punto quello è tutto ciò che serve sapere basta questi si sono scontrati via è giù è giù va bene io sono abbastanza impaziente mai avrei pensato di dirlo Atravatar l'ha già visto ah è il nostro grande esperto mi sembra gli sia piaciuto molto beh allora dai questa è garanzia se è piaciuto Atravatar non si è sbottonato particolarmente ma mi sembrava convinto quindi appassionato come lui appassionato come lui se è rimasto più che soddisfatto ci sta va bene e puntiamo al nostro main event arriva eccolo qua sentiamo un po' dobbiamo parlare di una situazione abbastanza contorta che fino ad ora ho evitato perché mi sembrava poco interessante da proporvi non avrei saputo come rendervela accattivante però adesso c'è stata un'evoluzione che va a toccare alcuni dei nostri temi e argomenti principali quindi siamo pronti siamo pronti per inserirci nel merito di quella che è una sorta di guerra civile disneyana sappiamo che Bob Iger attualmente è in sella ma c'è cercherò di essere semplice c'è chi vorrebbe fargli le scarpe si tratta di un investitore della compagnia quindi ci mette del danaro tale nelson pelz un esperto di economia è un vecchio lupo di mare ne ha viste di ogni probabilmente neanche fatte di cotte di crude ma in quel mondo sappiamo come funziona caratteristica particolare tra i sostenitori del signor pelz che in sostanza vorrebbe buttar giù Bob Iger e inserirsi agli alti piani di gestione disney ecco immaginate uno Iago sulle spalle di Jafar questo Iago è Ike Perlmatter che se un nome che vi sembra familiare beh è colui che si occupava del dipartimento marvel television una sorta di rivale vero e proprio di Kevin Feige quando Iger ha dato il potere totale a Feige la prima cosa che lui ha fatto è stata silurare per Matter che quindi a questo punto è passato nello schieramento nemico affascinante vincente immagino sto vermi lingue e ci sarà una votazione tra gli azionisti per capire chi continuerà a gestire la compagnia sembra che Iger dovrebbe vincere in agilità dalla sua al supporto della figlia di Walt Disney di George Lucas di un sacco di personaggi ma il signor Peltz ha rilasciato anche delle dichiarazioni particolari che ci interessano perché si inseriscono in un momento in cui almeno sul web la Disney ma soprattutto la Marvel vengono viste come in crisi alla canna del gas aiuto che flopponi e poi ci sono le polemiche le donne gli afroamericani Nelson Peltz diventa simbolo e rappresentante di tutte queste correnti e rilascia queste dichiarazioncine un giornalista gli domanda se Kevin Feige dovrebbe essere licenziato e Peltz risponde non sono pronto per dire questo ma metto in dubbio i suoi risultati e il pubblico va a guardare un film o una serie per sentirsi intrattenuto non vanno per ricevere un messaggio perché dobbiamo avere una Marvel tutta al femminile non ho nulla contro le donne e qui la sirena rossa si accende sta continuando a tirare le pietrate nascondendo la mano non ho nulla contro le donne ma perché devono farlo perché non possiamo avere una Marvel che sia entrambe le cose tra parentesi maschile e femminile perché devono proporci un cast all black tutto nero mancava un bel insulto agli ebrei aveva fatto il pacchetto completo non voglio dire che quindi se voleva beh dai è bello che immagino che con queste dichiarazioni il nostro amico in realtà abbia anche un bel po' di sostegno popolare e questo è il punto mamma mia già in chat leggo ha ragione non ha detto nulla di troppo essere forse è strano adesso andiamo a verificare con mano ciò che afferma andiamo un po' a controllare i dati ecco non ha detto nulla di sbagliato io mi farei un po' di domande personalmente se per voi non ha detto nulla di sbagliato mi fermerai un attimo a riflettere no proprio su voi stessi però adesso vi spiego il motivo per queste mie affermazioni vai vai lo so che mi farò tanti nemici ma me ne frego allora cominciamo dall'argomento meno complicato mettere in dubbio i risultati di Kevin Feige che forse potrebbe anche meritarsi il licenziamento in fondo in fondo quest'uomo Kevin Feige è il produttore lo showrunner della saga di maggior successo nella storia del cinema ha prodotto 33 film sotto l'ombrello del mar del cinematic universe e se noi sommiamo tutti gli incassi arriviamo a 30 miliardi quindi in media quasi un miliardo per film ma perché la sento già l'obiezione ultimamente eh sì si tentenna e va bene io vado a prendere uno schemino che ha fatto John Campia ultimamente le cose non vanno più bene come prima ok prendiamo la lista dei film MCU arrivati in sala dal 2022 togliamo il 2021 perché c'era Disney Plus in mezzo Black Widow tutta quella situazione 2022 e facciamo un confronto con la DC non per male ma perché entrambe queste compagnie lottano sullo stesso terreno di battaglia ed entrambe si sono trovate anche ad affrontare gli effetti del periodo di chiusura delle sale i vari scioperi le varie situazioni complicate quindi secondo me è interessante allora dal 2022 la Marvel ha rilasciato in sala Doctor Strange 2 Black Panther 2 Guardiani della Galassia 3 Thor 4 Ant-Man 3 e The Marvels sono sei pellicole la DC invece ci ha proposto Aquaman 2 Blue Beetle The Flash Shazam 2 e Black Adam un film in meno gli incassi cominciamo da quelli della DC Aquaman 2 434 milioni parliamo di incassi globali totali netti secchi Aquaman 2 434 milioni Blue Beetle 128 The Flash 266 Shazam 2 132 Black Adam 390 se facciamo la somma in totale questi film si sono portati a casa un miliardo 350 milioni facendo la media è come se ogni film ne avesse incassati 270 vediamo la Marvel la Marvel in crisi Doctor Strange 2 952 milioni Black Panther 2 853 Guardiani 3 845 Thor 4 760 Ant-Man 3 463 The Marvels 200 per un totale di 4 miliardi e 7 media per film 678 milioni eh c'è una discreta differenza sì c'è un film in più eh per carità da una parte facendo la media ogni film in cassa 270 in casa Marvel 6 e 70 ora con tutto il bene del mondo ma è da mettere in dubbio il signor Kevin Feige eh c'è anche da dire che tra i film che hai menzionato però ci sono tanti casi singoli particolari ad esempio Black Panther 2 tirato su anche da una tragedia eh Guardiani della Galassia 3 sempre è stata una sicurezza ci potevano ammettere anche Super Pippo a posto di Kevin Feige che comunque però chi ha generato chi ha generato l'idea che Guardiani della Galassia a prescindere funziona è vero è vero infatti merita tutto il riconoscimento di questo sa fare il suo lavoro quello che c'è da chiedersi è se riesce a stare al passo coi tempi però eh merita sicuramente considerazione caspita direi che però le dichiarazioni di Pelz non sono proprio al passo coi tempi no 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 ma infatti quello che sostiene Pelz e che è anche quello che dicono tanti è da vedersi immaginate una squadra di calcio che funziona che porta a casa il risultato che si comporta bene e un giorno vengono imposte delle nuove divise e da quel giorno quella squadra di calcio comincia a perdere e tutti danno la colpa alle nuove divise no è una casualità il problema è che giocano da schifo intendo dire se vedete che nei film vogliono mettere effettivamente dei messaggi vogliono fare tipo cast al femminile vogliono mettere inclusività non è quello il problema sì scusami volevo puntualizzare non credo che mettessi in dubbio il suo storico ma la direzione attuale io vi rileggo la dichiarazione se volete ce l'ho qua sotto mano non sono pronto a dire che andrebbe licenziato ma metto in dubbio i suoi risultati in originale dice I question his record quindi i risultati che ha ottenuto non parla di situazione attuale parla di risultati che questo qua ha portato a casa 33 film 30 miliardi è il produttore di maggior successo nella storia di Hollywood che piace o meno è vero chi mette al posto suo è un casino ovviamente non siamo esperti anche io non vi saprei tirare fuori dei nomi però io sarei terrorizzato da una situazione del genere quella dove si sceglie un successore perché si parla di un impero mandato avanti in un certo modo da una persona l'unica persona che sa veramente come deve andare avanti quella cosa lì è chi l'ha creata e tutto che fai chiunque gli succeda deve fare un lavorone paurosissimo però poi c'è altro da dire sì sì volevo soltanto un attimo completare quel discorso intendo dire è vero che stanno dando più importanza a volte a certi messaggi a certe questioni estetiche che al film in sé ma non è perché sono presenti quelle cose lì è perché la scrittura non è all'altezza il problema nei film è più che altro a livello di scrittura a volte di marketing di promozione ma principalmente è la scrittura si può fare un prodotto che ti può mettere inclusivo così piacevole bello spesso ne guardiamo io adesso sto riguardando sto facendo un rewatch perché lo sto facendo conoscere alla George sto riguardando Cobra Kai Cobra Kai è una serie inclusiva se ci guardate bene ma nessuno si è mai lamentato di questo perché comunque ti cattura dei personaggi è ben scritta per quello che devo offrire intendiamoci avevamo parlato anche di From From che non è molto famosa è una serie a suo modo inclusiva e funziona perché è scritta bene almeno fino a dove sono arrivati cioè intendo dire se un prodotto è brutto non è perché vuole dare un messaggio se un prodotto è brutto perché è brutto tutto male sì 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 attenzione poi non mi si dica che non sono il primo critico nei riguardi della gestione Marvel del Moderna però ci sono anche dei numeri il discorso il pubblico vuole vedere un film o una serie per sentirsi intrattenuto non per ricevere un messaggio io mi permetto di dire che anche il film sì ci sono delle eccezioni mi è venuta in mente Winnie the Pooh Blood and Honey ma nella maggior parte dei casi qualsiasi film ha un messaggio più o meno volontario sì ovviamente ci sono delle pellicole che danno più spazio alla morale che vogliono trasmettere ci sono film che sono caratterizzati proprio dal loro intento filosofico etico Barbie è un messaggio anzi per me uno dei problemi del film è che tutto messaggio poco film ma facendo la retrospettiva del Marvel Cinematic Universe ci siamo resi conto che soprattutto nella fase 2 ci sono tantissimi messaggi anti controllo governativo quel controllo che si è venuto a creare post 11 settembre per motivi di sicurezza ma che poi sta negando secondo alcuni la privacy dei cittadini Kung Fu Panda 4 approfitto di un commento in chat che ho visto settimana scorsa ci insegna che dobbiamo essere pronti ai cambiamenti è una roba semplice sì è un messaggio rivolto ai più giovani quindi puoi girarti da tutte le parti ma di norma quando racconti una storia vuoi arrivare a un punto può essere molto blando molto leggero un messaggio universale in altri casi diventa la pietra fondativa dell'intero progetto vero ma vorrei concentrarmi poi sulle due ultime esternazioni no quelle che secondo alcuni in chat e non a tutti i torti allora la marvel al femminile 33 film giusto in tre di questi ci sono protagoniste donne 3 su 33 se includiamo le serie però si nota anche un cambiamento di trend ci pensi c'è shiulk anche scarlet witch con bandavision se guardi le serie miss marvel si dà più spazio a protagoniste donne però questo non vuol dire che c'è anche moon knight esatto esatto però confronto le serie danno più spazio rispetto ai lungometraggi film film sono 3 su 33 gli incassi perché qualcuno potrebbe dire eh sì ma sono andati black widow 379 milioni capitan marvel un miliardo 130 milioni the marvels 200 milioni uniamo gli incassi facciamo la media ogni film ha incassato 570 milioni che è più che dignitoso però il cast tutto tutto nero a parte che nei due black panther ci sono anche dei personaggi caucasici ma su 33 film due hanno protagonisti afroamericani o comunque neri due su 33 eh due black panther ha incassato 1 miliardo 350 milioni black panther 2 859 milioni media di incasso per film 1 miliardo e 100 milioni il primo black panther ha vinto 3 oscar ed è stato nominato in 5 categorie compresa quella miglior film hanno proprio sbagliato a farli eh mannaggia questa marvel che sbaglia direzione queste cose succedono quando la politica americana entra troppo in ambiti che non dovrebbero essere diciamo influenzati da messaggi politici perché è solo quello è solo quello purtroppo è inutile girarci intorno però ribadisco se in questo tipologia di film ci sono delle problematiche non sono certo legate ai messaggi o al cast no le problematiche le sappiamo e teoricamente le stanno sistemando teoricamente sì così dicono beh sanno in primis sanno loro in primis di incontrare delle difficoltà e di dover cambiare rotta per fortuna che lo fanno vedremo cosa avranno in mente però io non non toglierei mai la fiducia a Feige soprattutto perché non saprei chi metterci a posto suo e poi perché lui ha portato i risultati a casa c'è chi ci metti ma ti immagini mettetevi per un attimo nella mente di ok tu sei il nuovo Kevin Feige vai datti da fare mettetemi nei panni di quel poraccio che si ritrova di fronte a una cosa appunti idee persone non sai niente non sai cosa devi fare scleri scleri assolutamente sì diciamo che sta facendo il capopopolo di una corrente che come dici tu sbaglia l'obiettivo lo sbaglia completamente volete che ci sia un aumento di qualità sperate che come dice Bob Heiger producano meno materiale studiato meglio sì e a giudicare da quello che ci dicono tutti lo stanno anche facendo ma dovrebbero essere anche più più coraggiosi secondo me perché alla fine hanno provato hanno sperimentato anche delle cosettine un pochino diverse come hanno detto con Shang-Chi con di Eternals però alla fine sono prodotti che hanno una partenza differente e poi vanno a standardizzarsi su schemi che conoscono bene che vediamo sempre a ripetizione un po' di coraggio un po' di coraggio in più rompete lo schema presentate qualcosa di veramente inatteso che sia un film supereroistico che qualcosa che spiazza lo spettatore perché alla fine se tu vuoi vedere un film della Marvel purtroppo anche se ti presentano un nuovo personaggio vieni scorrendo sai già che a una certa in poi succederà questo 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 ed accade l'unica cosa da guardare è un attimo come succede però sono schemi troppo collaudati provate a cambiare un po' senza paura che diamine sì ovviamente arriva l'ironia sì con Maleficent 3 i due Maleficent sono dei successi sarebbero scemi a non farlo sì soprattutto in questo momento oddio il secondo non è andato proprio bene 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 ma se abbassano il budget sono a cavallo sì posto che non si sa neanche se lo fanno era una notizia però vedete anche sto stile si va sempre a cercare il pelo nell'uovo ragazzi mi sembra chiaro che hanno rimandato le serie hanno detto che rigireranno il possibile hanno visto Capitan America 4 si sono detti che schifo prendiamoci del tempo per sistemarlo ieri Anthony Mecchi diceva la seconda stagione di Falcon e Winter Soldier non si fa più e volevano farla a quanto pare non si fa più si stanno concentrando sui film più di così io rispondo a Darwin che dice ci hanno provato Scream vedi Doctor Strange 2 e il pubblico generalista l'ha considerato troppo horror mi ricordi quanto ha fatto mi ricordi quanto ha fatto Doctor Strange 2 ma non è vero ma voi vi inventate delle cose secondo me a volte ma mamma io guarderei io guarderei comunque gli incassi a me sembra che sia andato 955 milioni il fatto è questo e non è colpa di nessuno perché tutti siamo oggetto di questa pressione su internet se una cosa viene ripetuta lo sfinimento diventa vera qualcuno ha cominciato a dire no il pubblico non gli è piaciuto 955 milioni eh insomma ragazzi dai dai non so non so sto anche andando a controllare le percentuali di voto del pubblico 85% 4 stelline 3 su 5 io su quel film spesso mi ritrovo di fronte a persone che dicono che la mano di Reimi non si nota più di tanto ma anche lì sono a mio avviso correnti internettiane nel senso che ovviamente ci sono degli influencer molto influenti che dettano delle linee di pensiero non per forza giuste o sbagliate io lo dico sempre sono sicuro che tanti vadano a rompere le balle ad altri creator riportando quello che dico io con fare ossessivo ne sono certo quindi un gioco a doppia doppia mandata io Reimi lo vedevo in quel film miseria no ma sai perché dicevo molti dicono così perché non ha avuto molte decisioni per quanto riguarda la sceneggiatura sì ma è regista voi prendete una singola scena scritta in un modo datela in mano non so a Spielberg e poi a Nolan dite a tutti entrambi girate sta scena verranno fuori due cose che anche se a livello di messaggio di contenuti sono la stessa cosa saranno differentissime fidatevi che in Strange 2 si respira Reimi dall'inizio alla fine quanto mi riguarda lo stile è il suo proprio ma faccio un esempio abbastanza sciocco Strange contro questa creatura poliposa che sale sul palazzo lo afferra Octopus in Spider-Man 2 con Zia May un po' quella è vero è veramente un esempio tra i più semplici ma secondo me l'influenza c'è poi ovvio che non abbia avuto il massimo controllo questo è sicuro certo però inquadrature certe scelte io l'ho notato spessissimo si può fare si può fare insomma continuiamo senz'altro a discutere dei pro dei contro ma qui si stanno dicendo cose secondo me senza senso poi cioè persone che un senso in realtà ce lo trovano ma che in realtà sono collegamenti che fanno loro non provati e non corretti ho detto basterebbe un attimino approfondire per vedere che sono dei mezzi sfondoni mio padre ha sempre detto più uno si trova in alto a livello di posizione in una diciamo una struttura di lavoro e meno ne capisce più sta in alto e meno ne capisce perché sono quelli sono quelli che si spacchano la schiena ai piani bassi che sanno perfettamente come funzionano le cose quelli che stanno in alto vogliono vedere solo i soldi però non ne sanno una mazza di come funzioni di giù beh se non sbaglio qualcuno infatti ha detto Nelson Peltz ma lei non si è mai occupato di cinema non sa come si producono e lui ha risposto ma non lo sanno neanche loro ok benissimo benissimo direi che abbiamo trovato un modo di classificare sto Fels abbiamo capito in che cartella inserirlo passiamo secondo me bastava bastava quello che ha detto prima sì sì io non ho niente contro le donne però potevamo fermarci in quel momento oddio queste donne che impestano l'intrattenimento ma infatti invece di stare al loro posto oserei che pretendono di essere protagoniste che brutto vedere i film con le donne noi vogliamo gli uomini hanno da puzzare l'uomo vero ha da puzzare io mi dico sempre boh io da ragazzino quando c'erano le donne però cambiano le tendenze sto scherzando naturalmente che paura che paura che ci fanno va bene direi di passare a qualcosa di più leggero all'angolino dell'autopromozione cari spettatori vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere mi piace nel caso in cui stiate apprezzando questa puntata, tutto al maschile del Mattiotti è giusto che sia benissimo e appunto iscrizione, mi piace ma anche commenti adesso è il vostro momento per spiccare, per alzare la mano e porci tante domande, certo privilegeremo i quesiti espressi tramite super chat, ma ancor più spazio e priorità sarà conferito ai nostri amici abbonati, infatti chi si abbona al canale ottiene un'ampia gamma di ricchi premi, vantaggi cotillon, giusto appunto ascoltiamo in primis i quesiti audio che vengono posti dagli abbonati abbonati che ogni settimana possono assistere a due dirette in più della durata di un'ora in cui approfondiamo gli argomenti è un'ulteriore occasione per per pormi curiosità che troveranno risposta e ci conosciamo anche un po' meglio e gli abbonati di livello più alto possono diventare ospiti veri e propri del canale nell'ambito delle puntate del Mattioschi Show del mercoledì e pensate oggi quante cose avreste potuto dire su questi argomenti per nulla spinosi ti ricordo anche dimmi scusa se ti interrompo un secondo voglio solo avvisarti mi senterò 30 secondi arrivo subito che ho bevuto un energy prima di iniziare la natura chiama arrivo subito ok 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 passiamo allora Pampling sito di t-shirt con stampe che fanno riferimento a tutto il mondo della cultura pop vi mostro quella di oggi che omaggia ritorno al futuro una delle mie saghe preferite e quindi abbiamo la DeLorean di Doc Brown vendita io un pensierino tutto sommato ce lo farei se vi piace questa t-shirt e volete farla vostra vi ricordo che comunque ce ne sono tantissime altre nel catalogo del sito per tutti i gusti vi ricordo in fase d'acquisto di utilizzare il codice sconto Intima 8 che vi permette di portarvi a casa un paio di calze gratis sono calze sempre con stampe di questo tipo colorate divertenti citazionistiche e il codice Intima 8 non scade mai è sempre riutilizzabile quindi se l'avete già usato in passato sappiate che è ancora valido è ancora attivo ogni qualvolta vi trovate su Pampling a fare compere c'è sempre un paio di calze in omaggio che vi aspetta l'importante è usare a ripetizione il codicillo Intima 8 abbiamo poi la partnership con NordVPN il servizio VPN che ci consente di fare tantissime cose come ad esempio navigare in rete con il massimo livello di sicurezza visitare siti che magari sono stati oscurati in Italia come si fa? Beh possiamo collegarci in maniera fittizia da qualsiasi punto del globo per approfittare di sconti vantaggi promozioni geolocalizzate a tal proposito utilizzando il link che trovate in descrizione nordvpn.com slash matioschi vi cuccate uno sconto di benvenuto quattro mesi di utilizzo gratis a patto di scegliere il piano biennale come forma di abbonamento e poi entro 30 giorni potete chiedere il rimborso totale qualora doveste scoprire che non fa il caso vostro l'avete provato ma quindi in sostanza un mese di prova vi vengono rimandati i soldi a proposito di mesi di prova chiudiamo l'angolo parlando di HOD TV piattaforma streaming italiana interamente dedicata al cinema horror e thriller indipendente ce n'è per tutti i gusti tutti in italiano alcuni doppiati altri sottotitolati ma la fruibilità è massima è garantita ci sono chicche per veri intenditori Scream lo conosci Coffin 2? no però conosco qualcosa che ha un titolo simile che eviterei a tutti i costi questo mi manca addirittura è il sequel la trama mi ispira gente intrappolata trick secondo me è un similso può essere è bello che viene classificato horror splatter quando la presentazione è più da thriller è curioso dai è curioso infatti secondo me siamo dietro guarda lì faccia da bulldog arrabbiata promette promette comunque sappiate che potete provare questa piattaforma per due mesi senza spendere un soldo 60 giorni interi come fare? beh trovate il link in descrizione ma se volete essere più smart ma io vi propongo questo codice QR voi lo scannerizzate e vi trovate direttamente nella pagina di compilazione per approfittare di HOD TV per 60 giorni tra l'altro c'è anche la funzione watch party quindi potete invitare altri iscritti alla piattaforma per godervi i vari contenuti chiacchierando divertendovi mi sembra un'ottima funzione quindi provate e fatemi sapere so che alcuni di voi si sono si sono iscritti ma ditemi nei commenti se l'avete testato cosa ne pensate bene a questo punto domande degli abbonati la luce rosa oggi è andata in pensione prima del previsto non so perché infatti in genere è la blu che è un po' si 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 ci sono sempre sempre sorprese e allora vediamo le domande anzi ascoltiamole e c'è De Vollo che ha avuto il momento di gloria ieri magari anche oggi è in periodo di rampa di lancio vai ah ma ci stiamo dimenticando di una cosa importante scrive no si ero già così non so se ti vedevo bello allegro sai che c'è che tutta la questione Nelson Peltz lì mi aveva un po' mandato ok forse non se ne sei accorto mentre eri lì che quando andavi avanti io facevo allacciato tipo così guardate gli utenti disperati che stavano già dicendo no no al contrario si stanno disperando io sentivo che mancava qualcosa mi sentivo più triste rispetto al solito più spompato e invece poi ecco il momento della settimana in cui riusciamo a depurarci da tutto questo liquame tossico del web tutti questi flame queste polemiche perché quando si ride in compagnia è il momento dell'angolino dell'umorismo evviva evviva anche oggi tre barzellette sui carabinieri tra le migliori che possiate mai sentire che potrebbero tornare utili durante i pranzi pasquali che teli con parenti che vedete solo a Natale e a Pasqua dovete spiccare rispetto agli altri ma allora la fidanzata e il fidanzatino e il lavoro voi cacciate una bella barzelletta sui carabinieri secondo me non vi danno più fastidio si saranno troppo occupati con le liti familiari dopo vai vai e iniziamo dalla medaglia di bronzo che secondo me si inserisce un po' in questo periodo di famiglie no mio figlio Mario poveraccio non ha combinato granché nella vita è solo professore universitario beh il mio ferruccio invece modestamente è idraulico erano due carabinieri ovviamente quelli che parlavano l'avrete capito anzi un carabiniere sta andando al ristorante con la moglie ma caro siamo sempre andati a mangiare in quel ristorante perché oggi vuoi andare in quello di fronte me l'ha ordinato il dentista poco fa mi ha detto di masticare assolutamente sull'altro lato santo cielo sono particolari oggi adesso c'è c'è la più bella va bene un carabiniere ha investito una mucca e ora è coinvolto in una causa giudiziaria volevo fare un po' ruoppolo perché si infatti delle acras ma mancano i sinonimi sai che fa incredibile ha stato arrestato ammanettato fermato ha investito una mucca ho investito una mucca signor giudice perché me la sono trovata improvvisamente di fronte sulla strada era una mucca svizzera vero? eh quello non lo saprei proprio la targa non l'ho vista mamma mia oggi erano belle oggi erano belle sì adesso possiamo riconoscerlo tutti belle porcate prego prego è tempo di una notizia vera ma improbabile o viceversa sì strana particolare e tra l'altro l'ho scovata poco prima dell'inizio della diretta di oggi il Matiosky il Matiosky Show cambia il proprio nome in chiunque altro e si candida alle elezioni degli Stati Uniti literally anybody else lancia la sfida Biden e Trump 300 milioni di americani meritano di più c'è un nuovo potenziale candidato alla presidenza degli Stati Uniti in vista delle prossime elezioni di novembre un uomo ha cambiato legalmente il suo nome in literally anybody else vale a dire letteralmente chiunque altro annunciando così la corsa alla Casa Bianca la trovata è di un 35enne di Dallas in Texas precedentemente noto come Dustin Abey maestro elementare ed ex militare lo scopo intercettare gli americani indecisi o insoddisfatti nei confronti dei due candidati Joe Biden e Donald Trump 300 milioni di americani meritano di meglio il nuovo candidato ha detto secondo quanto riferisce il Guardian ci dovrebbe essere una possibilità per persone come me che sono stufe di questa appropriazione di potere da parte dei due principali partiti che non avvantaggiano la gente comune con la sua candidatura intende quindi ribadire l'idea che letteralmente chiunque altro è meglio di Biden o Trump una sorta di grido di protesta ha detto ora bisogno di raccogliere 113.000 film per poter inserire il suo nome sulla scheda elettorale in Texas ma visto che questo è improbabile sta facendo campagna elettorale perché la gente scriva literally anybody else sulla scheda l'america non dovrebbe essere costretta a scegliere tra il re dei debiti e un 81enne l'idea dell'aspirante candidato presidenziale secondo me è un genio poi il mio voto l'avrebbe cioè mi ricorda non so se l'hai visto una commedia con Claudio Bisio benvenuto presidente mi pare dove c'è elezioni del presidente della repubblica in Italia si mettono tutti d'accordo per fare il voto nullo e votano tutti Giuseppe Garibaldi è solo che vanno a cercare Giuseppe Garibaldi che è un pescatore è quasi è un po' il contrario questo si va a cercare proprio qual è la cosa che scrivono più di di frequente sulle schede lottare letteralmente chiunque altro ok mi cambio il nome così la gente non lo saprà ma voterà per me tra l'altro nell'edizione del del grande fratello che si è appena chiusa hanno segregato questo manipolo di idioti da settembre fino a marzo io non lo so è diventato un esperimento sociale se non si sono scannati c'era Giuseppe Garibaldi vedi hanno anche cercato di creare un intrallazzo con una che si chiamava Anita la tristezza wow come alzare lo share proprio come lo so merito di grazia delle sue recensioni sul Corriere della Sera che io leggo ne sono avido lettore quindi mi informo per vie traverse ma 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 adesso Devon lo arriva abbandoniamo le meraviglie dell'angolino dell'umorismo e prego prego è il momento del caro Devon con il suo primo quesito tiè perché non si sente perché è colpa mia non so se avete saputo ma Timothy Chalamet ha firmato un contratto con Warner per partecipare a molti più progetti con loro sia come star principale che come produttore secondo voi però intenderà che far parte del nuovo DCU magari come Nightwing fatemi sapere la vostra grazie e buona puntata allora solita risposta standardizzata mai dire mai nel senso che non si può escludere nulla in quel di Hollywood però la sua carriera mi sembra andare in tutt'altra direzione tutt'altra e francamente mi fa piacere perché ancora abbastanza giovane è molto bravo e secondo me si deve prima fare le os non vorrei che gli appiccicassero addosso un ruolo per tutta la vita cioè capite cosa intendo è molto facile in certi film in certe cose che quel ruolo ti rimanga appiccicato addosso e vorrei che lui dimostrasse di saperci fare ecco quando si è votato al commerciale fin qui ha optato per Dune che è comunque un prodotto sofisticato e per Wonka che si rifà una tradizione anche a livello musical che gli permette di sperimentare di farsi vedere anche a livello attoriale e canterino io saranno dei miei limiti ma attualmente in un contesto supereroistico non riesco davvero a incasellarlo e guardate se proprio dovesse scegliere lo ipotizzo più come cattivo che come eroe che si lega al brand per film e film avvenire lo utilizzi in monouso a un villain e quello potrebbe farlo secondo me l'hanno fatto in tanti sì una cosa di quel tipo sì e potrebbe anche essere curiosa e particolare come scelta un po' inaspettata altre cose no no però sono solo sensazioni personali sì capisco infatti io mi sono subito espresso dicendo preferirei vederlo continuare a fare alto tutto è possibile lo sapete sì sì seconda domanda e come seconda domanda vi volevo chiedere avete visto il trailer di Bad Boys 4 e se sì cosa ne pensate grazie ancora no perché non ho mai visto i Bad Boys o meglio da ragazzino credo fossi in vacanze in montagna avevo intravisto il primo e non mi stava piacendo per nulla quindi a un certo punto ho cambiato canale e gli altri non li ho proprio guardati e anche questo non attira il mio interesse e anch'io ho visto solo il primo me lo ricordo a me sembrava più che altro un lungo episodio di un telefilm poliziesco più che un film non mi aveva fatto impazzire mai recuperato i seguiti e non avendo interesse non ho visionato il trailer in questione quindi purtroppo sono impreparato sull'argomento ma abbiamo la domanda di Chius un cordiale saluto a Mateoschi e agli ospiti di oggi per la mia rubrica del mercoledì andrò a parlare di un film del 2004 che è derivato da una serie animata canta degli anni 70 e 80 mi riferisco a Talbert creata da Bill Cosby nel film durante un episodio della serie animata i protagonisti dovranno passare passeranno dal televisore alla vita reale per andare ad aiutare una ragazza che è marginata e non ha amici il protagonista si innamorerà della sorrellastra di questa ragazza però tutti quanti dovranno orientare più presto nel cartone animato perché stanno scomparendo essendo appunto dei cartoni animati vorrei chiedervi se lo conoscete anche solo la serie animata cosa ne pensate e se l'avete mai visto grazie per le risposte ma io non ho visto il film e Metapino non conoscevo neanche la serie mi è appena aperto un mondo Albertone in Italia Fett Albert mai vista il film non lo conosco il cartone non lo seguivo però conosco sostanzialmente questa serie ideata e non solo da Bill Cosby dava la voce anche appunto al protagonista Fett Albert che era questo ragazzone di colore molto molto grasso la serie principalmente dava delle lezioni morali era anche abbastanza avante per l'epoca cioè contro il razzismo contro queste cose via discorrendo preferivo altri contenuti non perché non fossero importanti eccetera semplicemente perché da ragazzino seguivo un altro tipo di cartoni ecco quindi boh tutto qua credo che il fatto che sia associato a Bill Cosby per tante ragioni eh anche Bill Cosby è duro da digerire con quello che ha fatto eh è una maledizione tutto ciò che ha toccato in passato inesorabilmente ci ricorderà chi è Bill Cosby chi è Bill Cosby non è bella questa cosa eh sì 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 davvero non l'avevo neppure mai visto quindi ho fatto una scoperta oggi però volete sapere il titolo italiano del film il mio grasso grosso amico Albert sì siccome il matrimonio greco era andato bene non credo volessero richiamare quello ah dici di no secondo me non avrebbe senso dai due target totalmente differenti eh ma quando c'è quel giro che funziona lo ripetono seconda domanda di Chius domanda si parla un'altra volta di biopic musicali vorrebbe che Jeremy Allen White sia la prima scelta per il ruolo di Bruce Springsteen nel prossimo film della 24 che narrerà della genesi dell'album fermi 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 tutti il regista del film di Fatalbert è lo stesso del mio grosso grasso matrimonio greco è una casualità è una ma davvero quindi noi sì è vero noi in Italia l'abbiamo fatto apposta vedi che c'è del genio dell'intelligenza non ci credo non ci credo questa cosa andava è lui stesso che me l'ha fatto notare in chat vedi il regista mi pare sia lo stesso del matrimonio sì allucinante titolisti italiani vi vogliamo bene ma scusa devo risentirti da capo perché ero distratto manda si parla un'altra volta di biopic musicali ok vorrebbe che Jeremy Allen White sia la prima scelta per il ruolo di Bruce Springsteen nel prossimo film della 24 che narrerà della genesi dell'album Nebraska vorrei chiedervi cosa le pensate ma in generale vorrei chiedervi nei biopic musicali secondo voi quanto un cast quanto meno conosciuto incida sugli incassi perché a pensarci bene i film di questo genere quelli andati bene avevano tutti un cast conosciuto più o meno se si pensa a Rocketman a Elvis o anche a Bimia Rhapsody che Rami Malek veniva appunto da Mr. Robot quindi un minimo di conoscenza lo aveva vorrei però sapere la vostra opinione grazie per le risposte e ottima puntata io non conosco moltissimo Bruce Springsteen a parte le canzoni più note e conosciute può essere interessante anche perché se è una produzione a 24 non mi aspetto un budget gigantesco ma un film molto improntato sul tono autoriale forse anche sperimentale mi interessa sulla carta come progetto e vedo anche bene l'attore nel caso Jeremy Allen White se ci penso può essere uno Springsteen credibile per quanto riguarda l'attore famoso che contribuisce secondo me hai citato tre casi in cui forse la definizione attore famoso un po' generosa e Scream è caduto mannaggia ma tornerà vado avanti cerco di di farmi capire Austin Butler prima di Elvis era famoso? io credo che la sua popolarità si è esplosa solo di recente proprio con il binomio Elvis Dune prima Taron Egerton è mai diventato popolare come attore protagonista non ne sono così sicuro nel senso che noi cinefili sì l'abbiamo trovato in tante pellicole divertenti è molto bravo però secondo me è uno di quegli attori a cui manca sempre gli manca sempre quel passaggio definitivo per diventare davvero noto Rami Malek reduce da una serie televisiva esattamente come Jeremy Allen White non vedo la differenza insomma secondo me in nessuno di tre casi citati possiamo parlare di attori affermatissimi neppure secondo me per quanto riguarda Malek che anzi a mio avviso è diventato famoso al cento per cento proprio grazie al ruolo di Freddie Mercury prima era un caratterista i cinefili lo riconoscevano ma prima di quello sì la fama di un attore non per forza incide in biopic musicale o biopic in generale diciamo che è un tipo di film nel quale la somiglianza estetica viene ricercata un po' di più sì non è per forza un fattore fondamentale però ammettiamolo quando l'attore effettivamente somiglia tanto al personaggio che deve interpretare rende di più poi dopo bisogna vedere come viene raccontata la storia quanto viene romanzata quanto interessa perché può essere una storia buttata giù dura e pura che diventa un mattone indigeribile oppure può essere una storia già interessante di suo o ancora può essere un po' edulcorata vi discorrendo comunque Springsteen è un personaggio molto interessante da portare al cinema a tantissimi fan a tantissime persone sicuramente felici di questo annuncio felici di questo progetto vedremo cosa faranno secondo me hai ragione quella che conta è l'aderenza visiva e la caratura dell'artista io non credo che il cast sia in alcun modo rilevante come non è più rilevante quasi in ogni ambito della cinematografia internazionale a dirla tutta ad esempio per interpretare Michael Jackson hanno scelto suo nipote un parente comunque sì un suo parente sì un nipote o il cugino non mi ricordo ma credo sarà un successone comunque non mi sembra un elemento fondamentale poi abbiamo la prima domanda di Paolo la scorsa volta ho fatto una domanda su quali fossero magari quei film che appunto ricordassero degli eventi che si sono poi diciamo sono poi diciamo avvenuti dopo questa volta invece vorrei fare la domanda opposta ovvero quali film sono stati premonitori di qualcosa io ne cito due uno è diciamo il buco nero di Interstellar che se non sbaglio Interstellar del 2014 c'era la foto del buco nero era 2020 forse una cosa del genere però comunque molto dopo e l'altro forse è uno che è un classico ed è italiano ed è indagine di un cittadino al di solo e dal mio sospetto che non rappresenta diciamo l'evento che poi ne è scaturito ovvero l'attentato di la stagia di Piazza Fontana però la maniera in cui sono andate le indagini di quello stesso evento ricorda molto quello che era quello che si era visto precedentemente nel film voi avete qualche altro esempio io ne ho due che bene o male vanno a parare sullo stesso aspetto anche se visto in modi differenti The Truman Show e tutti gli uomini del deficiente The Truman Show arriva prima del grande fratello a livello internazionale non c'era ancora probabilmente era un'idea che cominciava a diffondersi nei vari corridoi e proponeva un pubblico che assisteva alla vita quotidiana di questa persona cresciuta all'interno di uno studio televisivo siamo andati assolutamente in quella direzione i reality hanno dominato il panorama dell'intrattenimento e lo fanno tuttora su twitch giusto per non andare troppo in là c'è chi si riprende mentre dorme sì e ti mettono anche la possibilità di attivare un alert con una donazione per provare a svegliarti che lo disturba che lo innaffia ragazzi sulla locandina di The Truman Show c'era il protagonista che dormiva sul maxischermo a New York ci siamo arrivati e Scream è andato via un'altra volta secondo me ha cliccato sul pulsante sbagliato per quanto riguarda invece tutti gli uomini del deficiente è Pechino Express quindi anche in quel caso opposto che prendeva spunto da Rat Race ma personaggi che competono hai schiacciato sulla X di la verità vi chiedo scusa hai schiacciato sulla X ti ho vinto proprio è vero e tu ti uscivi ma stavo chiudendo un'altra finestra non so perché sto giro prima sono caduto adesso vabbè non toccherò più nulla fino alla fine promesso bravo allora chiudo con tutti gli uomini del deficiente non solo c'è la dinamica alla Pechino Express ma nell'introduzione di quel film si parlava di questo imprenditore Leone Stella che veniva visto di mal occhio perché era portatore di idee particolarmente innovative e ad esempio distribuiva i suoi videogiochi gratuitamente sul web vi garantisco che quando da bambino guardavo il film ma quando mai fantascienza eh sì proprio io invece metterei partirei da George Orwell col suo 1984 e i film derivati tipo essi vivono eccetera che tra fantascienza eccetera in realtà descrivono qualcosa di molto simile per tanti versi alla società di oggi con la pubblicità opprimente che indirettamente ti suggerisce cosa desiderare cosa fare via discorrendo George Orwell era avantissimo però tolto quello io dico tantissimi prodotti che mostrano un futuro che in realtà si è realizzato mi sento di citare Super Fantozzi lo so che sembra però vi ricordate l'ultimo sketch con l'ambientato nel futuro dove c'è questa stanza vuota dove con dei comandi tirano su il tavolo tirano su quelle sedie viene giù in realtà oggi una cosa del genere si può creare e questa è una riflessione che mi era capitata guardando il migliore dei mondi di Econ Maccio Capatonda non un film irresistibile ma nella prima parte del film facevo vedere questo protagonista ultradipendente dalla tecnologia che vive effettivamente in un contesto del genere con Alexa con tutto automatizzato e quanti film degli anni 70 e 80 mostravano un futuro così gente ci siamo oggi si può oggi il futuro è oggi caspita si 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 la seconda domanda di Paolo si è una domanda domanda un po' più easy vi chiedo se quali sono diciamo i merchandise di vostra proprietà legati ai film acquisite particolarmente più legati o quali tendete magari di più a comprare esclusi ovviamente DVD proprio del film in sé o Blu-ray anche perché vedo Mattia di Funko anche alcuni ce li ho di The Batman la mia intenzione era pure quella di collezionare tutti le varie versioni di Batman però a me piace addirittura prendere i vinili appunto delle colonne sonore l'ultimo che ho preso è quello di Oppenheimer però anche che ne so Saturn Night Fever Rocky Pulp Fiction Django molti diciamo voi quali siete particolarmente legati e quali vi piace appunto collezionare o comprare una domanda che arriva un po' nel momento sbagliato perché non ho spazio in casa quindi non sto comprando quasi più nulla ad esempio con i fan che ho smesso ma in generale mi hanno un po' stancato comunque ho completato la collezione di Lost quindi va bene però dai alcuni li vedete Woody sinceramente ci sono molto legato la maschera di Scream me l'hanno data all'anteprima di Scream 6 poi conservo ancora le versioni estese del Signore degli Anelli anche se ho intenzione di ricomprarle in 4K oggettistica particolare non credo di averla beh il Lego della cantina di Mos Eisley che non sono ancora riuscito a montare perché giusto appunto non ho spazio ma mi farebbe davvero tanto piacere tanto io non sono tipo che acquista questo genere di merchandise infatti non avrei nulla da mostrare se non qualcosa di particolare unico non raro unico certo non si parla di qualcosa di veramente famoso ma se parliamo di Funko vi presento i Funko dei miei personaggi io i miei Funko Fob gente mi hanno fatto con una stampante 3D colorati a mano che purtroppo si sono un po' rovinati alcuni perché la gatta ha detto no sono brutti in realtà sono bellissimi e niente volevate vedere qualcosa e io vi mostro me ecco li devi produrre devi creare un tuo shop dove li metti in vendita no nessuno li comprerebbe questo lo dici tu a parte te ecco ecco fatto i miei Funko i miei Funko Francesco Gervasi ciao Mattia e ciao Scream questa mattina ho visto il terzo episodio di X-Men 97 che ho trovato ottimo quanto i primi due e ho visto anche il corto animato relativo a Miles Morales che la Sony ha rilasciato da pochissimo su YouTube quindi vi chiedo visto che questi due prodotti animati hanno in comune una cosa ovvero dei tratti horror qual è stato secondo voi un momento horror ben riuscito ben realizzato in un prodotto animato grazie per le risposte e un saluto a tutti da dove iniziamo Biancanevi i sette nani oh beh guarda che la Disney è piena di horror anche la faccia del del cocchiere in Pinocchio quando gli fanno il primo piano malvagio era guardiamolo a Disney è horror la mia infanzia è piena di traumi disneyani ma veramente legati a Biancanevi in particolare la foresta con gli alberi dai volti mostruosi la trasformazione della regina cattiva sì l'anziana cattivissima ero molto piccolo eh certo però me le ricordo ancora come momenti di shock ti vado direttamente a parare lì subito eh sì sicuramente ci sono tanti momenti shock se andiamo a vedere un po' più nello specifico in prodotti magari impostati per essere horror suggerisco Monster ci sono dei bei momenti Monster che è una è una serie anime molto adulta e drammatica ah certo sì sì oppure non lo so solo animato ho un altro esempio un po' particolare perché in quel caso si cercava di far ridere ma come al solito ero bambino è stato il mio primo approccio con i Simpson a dir poco traumatico tant'è vero che prima di rivederli e adorarli alla follia ho aspettato un pochino ero in montagna dei miei zii zapping capitano i Simpson che lo so che sembra strano ma erano visti come un prodotto proibito quindi i miei genitori in genere cambiavano canale quando c'erano e mi è capitato uno speciale di Halloween in particolare quello in cui ehm eh Barnes si fa impiantare nel corpo di Homer si la testa il mostro di cefalo trauma anche perché non sapevo che fosse uno speciale da prendere a sé isolato dal resto credevo che quello che succedeva fosse definitivo fosse la trama dei Simpson che andava avanti quindi trauma assoluto e ciao per diverso tempo beh allora c'era quella del dei Griffin episodio autoconclusivo che non non è non è definitivo quello della fine del mondo quando non l'ho mai visto no è primissima stagione praticamente è la fine del mondo per il Millennium Bug forse forse sì se è la prima stagione mi viene in mente qualcosa col Millennium Bug tutti e loro cioè perché secondo Peter Griffin solo una cosa resiste alla fine del mondo che è la fabbrica di biscotti di Netic e vanno lì dove incontrano anche Andy Newman che mette in musica su musica tutto quello che vede con Stevie che con le radiazioni sviluppa i tentacoli diventa una sorta di mostro che fa le uova era foglia me lo ricordo però che fa un paura paura beh c'era com'è che si chiamava Elf and Lead molto Splatter c'aveva qualche momentino particolare anime anche quello poi io ricordo più che altro dei manga più che degli anime con dei momenti wow tipo Parasite che hanno fatto l'anime ma non l'ho visto io l'ho prima letto era parecchio inquietante Manhole boh cioè ci dovrei pensare bene però ci sono dei momenti simpatici nell'horror poi quelli House of Terror dei Simpsons a me facevano soprattutto ridere difficilmente mi spaventavano bene bene dai una domanda della chat per chiudere io io sono favorevole a ciò abbiamo ancora qualche minuto dovete essere rapidi però rapidi rapidi sulle vostre tastiere dai dai una la leggiamo intanto non sono l'unico traumatizzato con Biancaneve via il più veloce qual è il vostro film giallo preferito il mio assassino sull'Oriente Express di Sidney Lumet del 74 sai che io sono più ferrato sui romanzi nel senso che di trasposizioni vere e proprie però ce l'ho ce l'ho probabilmente non è il migliore tu sei tu hai puntato su un grande classico ti capisco però siccome io quella storia l'ho scoperta per la prima volta leggendola mi viene in mente il romanzo più che tutte le trasposizioni ragazzi quello che ha tutti gli effetti il film di Cluedo tant'è vero che in originale si chiama Clu Clu in Italia signori il delitto è servito lo amo è anche una parodia del genere però allo stesso tempo un giallo non direi valido perché chiede tanto alla sospensione dell'incredulità ma che intrattiene diverte sorprende sono d'accordo è da riscoprire è un film molto 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 carino me la posso giocare con qualcosa che include anche giallo tra i suoi generi pur non essendo un giallo puro certo io la butto lì accettamela io butto con The Eightful Eight a me piace tanto lo so che non è proprio un giallo puro no no ma io invece sono d'accordo infatti è forse il mio film preferito di Tarantino il che è dir tanto proprio per quella componente e quindi io ci sto ok allora vada per The Eightful Eight sì 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 bravo 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 dai dai un'altra bella rapida qual è il vostro videogioco preferito tratto da un film o da una serie beh io devo citare tutti i giochi della Lego sono fantastici ovvio sono tutti simili l'uno all'altro però se vi piace il Signore degli Anelli il videogioco Lego per un appassionato è fantastico perché sono incredibilmente dettagliati nel trasporre in chiave ironica i film ci sono tutti i personaggi tutte le location mi viene in mente anche quello di Harry Potter strepitoso se dobbiamo uscire dai confini Lego tratto da film e serie vi sono venute fuori tante zossurie il videoludico è vero sono anche delle delle kick a cui magari non ho giocato ad esempio mi ricordo di quel gioco di James Bond GoldenEye forse GoldenEye Nintendo 64 è un classico del Nintendo 64 però non mi sono mai applicato io su GoldenEye ti racconto un aneddoto allora era un periodo nel quale andavamo a casa di un mio amico che aveva un Nintendo 64 aveva anche cioè la possibilità giocavamo in 4 contemporaneamente il problema è facevamo i deathmatch tutti contro tutti in 4 solo che aveva solo 3 controller e io giocavo a GoldenEye col volante e i pedali gente e il problema è che ero anche bravo cioè io sparavo lasciavo lasciavo granate col volante e i pedali cioè dovevo accelerare per correre ero anche bravo a lei facevano anche i 3 contro 1 facevano anche i 3 contro 1 credo che la domanda comunque si riferisse a tie-in o trasposizioni dirette Jedi Fallen Order posso quasi farlo passare Marvel Spider-Man proprio no è una trasposizione del fumetto non dei film con i film non è in comune niente sì dite Toy Story quello del 3 non l'ho mai provato il primo ce l'avevo per Siga Mega Drive difficilissimo ma l'avevo terminato dopo aver sputtato sangue il secondo era molto carino c'era addirittura una componente non oserei dire free roaming ma comunque vagavi per delle mappe all'epoca abbastanza ampie altri che mi vengono in mente ma ce ne sono davvero tanti Dragon Ball Z Budoket e Tenkai C3 tutti i vari giochi di Dragon Ball ma visto che avete segnalato Harry Potter ora è un gioco che effettivamente ha diversi limiti mettiamo da parte quelli classici che sono dei giochini per ragazzi che però per me hanno un'atmosfera veramente magica quindi pietra filosofale camera di segreti però Hogwarts Legacy mi ha fatto emozionare in modo inaspettato mi capitava di arrivare in alcuni punti della mappa e rimanevo lì a bocca aperta quindi per me è validissimo allora io ne cito due molto vecchi che uno bello all'epoca era per il NES Nintendo 8-bit gente tratto dalla serie di Mission Impossible la serie era difficilotto per un bambino un ragazzino ma io l'ho finito tipo 5-6 volte ogni volta che lo finivo era una grossa soddisfazione era tosto è bello che potevi switchare tra tre personaggi ce n'era uno lentissimo che sparava e aveva le bombe ed era giustificato dal fatto che fosse lento perché aveva pieno era pieno di peso uno che correva tantissimo che era la gente di colore che tirava i pugni però c'era corto raggio ma era velocissimo e c'era quell'altro che andava così così che lanciava i boomerang e era giustificato dal fatto di non essere velocissimo perché da manuale aveva una storta alla caviglia lo mandavano in missione lui fa tutta la missione si gira il mondo perché c'è a Venezia sei di qua sei di là lui con una storta vabbè però a me piaceva e poi invece giochi brutti total recal per Nintendo NES atto di forza usare schfarzi che per la maggior parte del gioco hai solo i pugni contro gente che ti spara tutto ti uccide ma era proprio fatto male mi pare fosse addirittura dell'LJN che era una casa di produzione e di sviluppo di videogiochi che spesso prendeva le licenze per trasporre videogiochi dai film o serie televisive ma faceva delle porcate in mani piene di bug mi pare forse dell'LJN anche quello però io non so come abbia fatto a finirlo ma atto di forza volete andate a vedere il gioco di atto di forza per Nintendo NES mi stavo dimenticando di Indiana Jones assolutamente Indiana Jones and the Fate of Atlantis per quanto mi riguarda è il quarto film mai realizzato e poi ah i gestionali di Jurassic Park ah è vero ci sono anche quelli quelli action di solito fanno tutti schifo ma i gestionali sono sempre stati bravi devo dire sempre infatti vale la pena di essersi sorbiti i Jurassic World solo per i due gestionali che hanno fatto i film sono orribili va bene grazie Scream per aver partecipato ma figurati sono io che ringrazio te ringrazio voi della chat e voglio concludere con sfatando un mito E.T. per Atari viene considerato uno dei giochi peggiori mai fatti sono il peggiore non è assolutamente vero avete mai visto i giochi per l'Atari E.T. era brutto come un gioco dell'Atari non è che fosse il più brutto in assoluto fidatevi però commercialmente parlando era stato veramente un tracollo brutale commercialmente sì ci salutiamo ci vediamo alle 17 per chiudere la retrospettiva congiunta Alien Predator è stato un viaggio lunghissimo che termina con Prey l'ultimo arrivato quale sarà la prossima retrospettiva lo scoprirete solo alla fine della diretta di oggi pomeriggio domani alle 14 Matioski Show domani alle 17 analizziamo recensiamo la terza puntata di X-Men 97 perfetto ragazzi ciao grazie per essere stati con noi e alla prossima diretta ciao a tutti ciao ciao ciao